Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia del KTM di Taylor, che vi mostrerò le nuove grafiche. Ho deciso di portarvi questo video anche sul mio canale, perché secondo me merita molto. PC ha fatto un ottimo lavoro di editing e soprattutto queste grafiche mi fanno impazzire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, lasciate un commento e noi ci vediamo in un prossimo video. Buona visione! I'm left out in the dark There's no way out from here Leave me to die I know what's right I don't need nobody else's side I don't need nobody else's side Leave me to die Leave me to die Leave me to die I don't need nobody else's side I don't need nobody else's side I don't need nobody else's side